e adesso siamo al 2 settembre 2024 e andiamo alla gymnasium a vedere il corso di nuoto vediamo cosa si dicono ci siamo iscritti al mercoledì facciamo vediamo e mamma mia e tu noti qui i trampolini bene alessino vediamo iniziamo mercoledì bene e andare a prendere l'attrezzatura dai dai che andiamo ciao no lì no lì no lì sì vabbè vedrai mercoledì andiamo